Sono in viaggio verso la Polonia dove saranno tumulate le sarme di Arkadius Mitzka, 23 anni, di sua madre Cristina, 54 anni, massacrati nel pomeriggio dello scorso 25 gennaio, nella mansarda della palazzina di Via Tibullo a Pescara dove il ragazzo viveva da tempo. A dare l'addio ieri mattina alle due vittime della feroce di Maxim Cernisch, ucraino di 25 anni, reo confesso dell'omicidio, c'erano i vicini di casa e le persone che conoscevano Arca e sua madre, oltre al vice sindaco di Pescara Enzo del Vecchio, in rappresentanza della città. I residenti di Via Tibullo, insieme ai commercianti di Porta Nuova, hanno anche organizzato una colletta per aiutare i familiari in Polonia a pagare le spese del funerale e venerdì nella chiesa di San Luigi, poco lontano il luogo dell'omicidio, sarà celebrata una messa in ricordo delle vittime, con le offerte che serviranno ad incrementare la colletta. Intanto gli amici di Arkadius e Cristina chiedono giustizia e niente sconti di pena per l'assassino, che dopo l'interrogatorio di convalida dell'arresto, resta chiuso nel carcere Pescaretesi San Donato. Maxim Cernisch, dopo qualche ora di ricerche, venne trovato la sera del 25 gennaio all'interno del locale caldaia di un palazzo vicino al luogo del delitto, scoperto da un condomino, che era andato a portare da mangiare ai gatti e aveva notato diverse macchie di sangue. Non lontano, nei pressi del parco dell'ex caserma di Cocco, sempre lo stesso giorno, le forze dell'ordine hanno trovato anche il coltello e la mazza da baseball con cui Cernisch aveva commesso i due omicidi.